Faccio un grande tifo perché penso che l'Italia abbia bisogno di una nuova generazione di donne e di uomini e la cosa bellissima di questo Parlamento è che ci sono tante donne giovani e tanti uomini giovani. Saluto il capogruppo del PD Roberto Speranza che è l'espressione, la sottosegretaria Velo e la sottosegretaria Sesamici, le altre parlamentari presenti e devo dire che in questo periodo ho pensato molto a Nilde Iotti a questa fase delle riforme e penso che Nilde avrebbe fatto un grande tifo per queste giovani donne, avrebbe fatto un grande tifo per te Maria Elena Boschi nel ruolo che ricopri di delle riforme che veramente speriamo che il Parlamento con l'impegno e il ruolo del Parlamento riesca ad approvare. Lei è stata un'innovatrice, non voglio dire come e quando perché chiudo rapidamente, ma è stata un'innovatrice che aveva un fortissimo senso della storia, del legame.